un amico chiedeva se sul nasdaq è informazione un testa e spalle ribassista la risposta è sì ho messo qui il grafico lineare perché si vede meglio qui c'è la spalla sinistra il top dato dal massimo del di metà agosto e la spalla destra leggermente sbilanciata un po piccola perché è la stessa cosa che è successo vi ricorderete c'era questo altro testa e spalle ribassista qui la settimana poi delle dichiarazioni di powell questa è stata la il 26 agosto con la rottura del minimo arrotondato il famoso minimo arrotondato che aveva lasciato una spalla destra anomala appena formata e qui più o meno è la stessa cosa solo che l'evento shock di ieri del cpi ha provocato la brusca discesa verso i supporti senza romperli questa volta non li abbiamo rotti almeno non al primo colpo come invece è successo il 26 agosto oggi per il momento rimbalzo 09 08 09 sta segnando il nasdaq dopo il crollo praticamente possiamo dirlo di ieri oltre 5 punti percentuali e quindi vabbè mancano ancora quattro ore alla chiusura e comunque ci sta dopo una giornata come quella di ieri un rimbalzo una figura che potrebbe essere di arami se dovesse finire così comunque vedremo poi alla fine quale sarà la configurazione finale per il momento 12 mila regge mentre l'europa che ha chiuso da poco andiamo sul dax si è comportata anche oggi si registra meno 1 e 2 il dax perché il dax chiaramente avendo chiuso ieri alle 17 30 non ha registrato poi la seconda parte della giornata degli indici americani che è stata molto negativa però tutto sommato da area 13 4 a 13 mila il dax è venuto giù di un 3 per cento circa in due giorni mentre per esempio il nasdaq il 5 per cento l'ha perso solo ieri oltre il 5 per cento quindi per il momento il dax mostra una leggera forza relativa fermo restando che comunque ieri abbiamo avuto una figura di barry shangulfing fatta proprio su 13 4 ed il fatto che 13 mila qui sia stato lungamente scavato tra virgolette come supporto quindi questo è un segno di debolezza per 13 mila quindi attenzione adesso il resto della settimana dobbiamo vedere sicuramente questo livello verrà attestato nuovamente cioè sicuramente di sicuro non c'è nulla però sicuramente dal punto di vista tecnico quindi con alta probabilità 13 mila verrà attestato visto che comunque è un livello che è stato già ampiamente indebolito nella fase precedente ecco in euro in per quello che riguarda l'europa il fuzzimib che ha beneficiato della fase positiva dei bancari a seguito delle decisioni prese dalla banca centrale europea che ha assunto alcuni provvedimenti favorevoli al settore bancario la scorsa settimana quindi il fuzzimib ancora meglio del dax oggi addirittura finisce con più 0 49 quindi una figura di reversal ma molto molto meno accentuata rispetto a quella del dax quindi anche per il fuzzimib da seguire nei prossimi giorni quali potranno essere le evoluzioni per il resto oggi appunto come dicevo giornata generale di rimbalzo non abbiamo grossi per quello che riguarda gli indici americani non abbiamo grosse novità i rendimenti stanno testando i massimi ma con molta con molta indecisione adesso stiamo vedendo il rendimento del decennale tedesco del bund che sta formando questo cluster di di doji di star proprio in area 1 e 7 che è un'area di resistenza molto importante dove si è fermato il movimento di giugno si sono già formate le divergenze sul dmi positivo che in realtà ha fatto tutta l'ultima gamba di salita questa qui a settembre dopo questo gap rialzista partito il 29 agosto quindi anche qui sempre le solite date no queste sono le dichiarazioni di powell che hanno dato un impulso verso l'alto ai rendimenti dei bond sia in america di conseguenza anche in europa però guardate tutta questa gamba si è sviluppata con un dmi che tendeva a indebolirsi i compratori sono rimasti per il momento alla finestra però i venditori sono rimasti alla finestra però i compratori hanno perso man mano grinta la dix ha continuato a salire quindi vediamo un eventuale candela di reversal qui se dovesse manifestarsi potrebbe dare il via a un movimento di pullback verso i supporti in particolare verso la volatility stop line perché segnali tecnici che possano preludere un'inversione già ci sono vediamo se ci sono segnali analoghi sul rendimento del decennale americano direi di sì forse un po meno netti per quello che riguarda le divergenze del dmi che comunque si stanno manifestando proprio negli ultimi giorni e oggi una figura una candela di tipo d'oggi star fatta proprio su 344 quindi sul massimo anche qui di metà giugno molto importante anche per il rendimento del decennale americano gli ultimissimi giorni verso l'alto sono stati un trascinarsi lento con momentum in fase calante non ci sono ancora segnali chiarissimi di inversione a parte queste ecco diciamo forse il sì diciamo c'è stato questo dark cloud del 7 settembre un bearish engulfing prima però poco marcato non molto netto questi sono i bullish engulfing più decisivi no dobbiamo vedere un'ampia espansione delle candele e poi oggi questo d'oggi star quindi cominciano dei piccoli segnali di debolezza sul candlestick ma sono di livello tecnico inferiore comunque massima attenzione perché siamo sulle resistenze quindi continuiamo a seguire i prossimi giorni molti ancora molti dati in uscita quelli di oggi hanno confermato le aspettative i prezzi alla produzione americani hanno confermato le aspettative e i dati della mattina sull'economia tedesca hanno confermato il calo della produzione industriale quindi continuano i segnali di debolezza dell'economia però fino a quando l'inflazione non mostrerà chiari segni scusate chiari segnali di discesa le banche centrali non molleranno sul rialzo dei tassi quindi continueranno queste tensioni sui rendimenti continuiamo con le richieste abbiamo titolo first solar titolo del settore nuove energie energia solare in particolare un amico chiedeva se è il momento di shortare allora io personalmente sono sempre contrario ad andare in maniera troppo netta contro trend soprattutto quando il trend è così così netto cioè l'amico fa notare il titolo è salito tanto proprio mentre il mercato scendeva io direi appunto cioè se un titolo manifesta questa forza in un momento di debolezza generale e probabilmente diciamo adesso ci saranno gli eccessi c'è la distanza la media 200 c'è la dx molto alto il pullback ci può stare ci può stare il ritorno sulla volatilità di stop line però da qui a partire con degli short è un pochino prematuro dal punto di vista tecnico perché quando il trend è così forte quando il momentum è così forte fino a quando poi si deciderà a fare il pullback sulle medie io nel frattempo non ci avrò capito nulla nel senso che qui guardate il dmi positivo ha cominciato a scendere già dal 9 di agosto cioè quindi è da oltre un mese ma nel corso di questo mese questo titolo ha già sviluppato almeno tre divergenze negative la prima qui con dmi allo stesso livello più basso del precedente poi ha fatto un nuovo massimo relativo qui con un dmi più basso poi ne ha fatto un altro qui con un dmi più basso e adesso sta continuando a scendere mentre proprio ieri ha toccato il nuovo massimo quindi i venditori sono ancora la finestra per cui qui ripeto andare eccessivamente cioè fare scommesse sui pullback qui può essere molto cioè si può anche fare ci sono queste tecniche di ritorno alla media no ritorno alla media o ritorno alla volatilità stop line che comunque calcolato sulla media anche nei trend marcati guardate questa fase di discesa poi prima o poi si torna no sulla media cioè ma prima o poi quando ecco qua c'è stato il caso opposto no il caso opposto questo continuava a scendere e nonostante il dmi positivo cominciasse a salire quindi desse la sensazione dal punto di vista tecnico di accumulare forza poi per far partire un rally il rally ci ha messo almeno un mese prima di partire ok quindi ecco questo per rispondere un po all'amico a proposito di volatilità stop line ricordo che sul canale youtube c'è un video che è stato messo proprio all'inizio quindi è visibile nella sezione informazioni volatilità stop line settaggi e raccomandazioni proprio perché molto spesso mi viene chiesto come è organizzato questo grafico che è molto semplice io generalmente preferisco avere poche informazioni sul grafico proprio per non quello che consiglio un po a tutti non riempire i grafici con troppi indicatori fare una scelta con gli indicatori con i quali ci si trova meglio e dopodiché restare su dei modelli semplici proprio per rendere facile la lettura ed evitare poi di avere segnali contrastanti nel corso dell'analisi ecco quindi questo per quello che riguarda fer solar e un altro amico chiede della cina che punto siamo è ottima osservazione perché la cina che noi stiamo guardando da un po di tempo attraverso questo cfd sul fuzi china a 50 sul cfd sul future china a 50 sono le 50 principali società classe a ci ha dato delle ci sta dando secondo me delle informazioni interessanti allora andiamo un attimo indietro qui c'era un canale di regressione ribassista che era partito nel mese di luglio e che è venuto giù fino ai primi di agosto è andato a testare la famosa chi se lo ricorda area 13 6 di supporto fondamentalmente la indebolita solito discorso cioè è vero che non dobbiamo mai considerare le aree di supporto e resistenza al tic però diciamo qui i prezzi hanno stazionato per tanti giorni sotto il livello di 13 6 quindi 13 6 la possiamo considerare ormai lo possiamo considerare come un livello superato indebolito anche se in effetti poi vedete i prezzi hanno continuato e stanno continuando a oscillare nei suoi paraggi però io ecco proprio per lo scopo di fare chiarezza in questo momento lo toglierei ecco poi nel mese di agosto siamo usciti da questo canale di regressione e questo poteva porre le basi per un recupero verso le resistenze verso un nuovo test della media 200 della volatility stop line che scendeva cosa è successo dopo questa rottura ecco dopo questa rottura generalmente quello che da un punto di vista tecnico si fa ecco si prende questo movimento in particolare quello iniziato dopo questo hammer che è andato a fare doppio minimo qui in area 13 e 3 prendiamo un rettangolo e andiamo a formare appunto il range compreso tra il minimo del hammer e il massimo raggiunto durante questo rally con cui è stato rotto il canale di regressione quindi è cambiato il comportamento dello strumento e quindi si analizza poi quello che succede all'interno del range che avviene che viene appunto a formarsi questo range ha retto per un po ha retto in particolare fino ai primi di settembre quando è stato violato per qualche giorno senza molta convinzione perché vedete qui c'è stata una rottura senza volumi qui un altro hammer senza particolari volumi quindi è stata una rottura questa qui poco convinta fino al 9 settembre giorno in cui c'è stato un rapido rientro all'interno del canale altro test qui con questo hammer di nuovo sulla parte bassa del canale test è riuscito è partito verso l'alto addirittura ieri in fase di apertura eravamo a 13 e 6 poi è chiaro anche l'asi ha risentito di quello che è successo ieri in america infatti nella notte tutti gli indici sono scesi però oggi siamo più 0 19 siamo rimasti è riuscito a rimanere all'interno di questo range quindi diciamo che si sta giocando qui una partita interessante proprio in questi giorni ha fatto bene l'amico a segnalarlo perché guardate l'altra novità è che il dmi positivo si è incrociato col dmi negativo questo non avveniva dal 6 di giugno perché poi dopo dopo il 6 di giugno c'è stato l'incrocio negativo il 14 luglio e da allora i bear sono rimasti costantemente in controllo quindi questo incrocio di per sé non è un segnale risolutivo però anche questo è un secondo segnale di cambiamento dopo l'uscita dal canale ribassista e il rifiuto della rottura del rettangolo questo è un diciamo un terzo segnale tecnico piccolo di possibile inversione del trend inversione non vuol dire che parte il bull market qui inversione significa che appunto lo strumento trova la forza dopo aver costruito una base perché questa potrebbe essere appunto una base potrebbe trovare la forza di rompere le resistenze di breve e in primis l'area 13 e 8 dove passano i massimi di questo movimento appunto di consolidamento e andare a testare poi le resistenze quelle chiave media 200 e volatilità stop line però tutto questo è da venire l'impostazione generale non c'è bisogno che lo dica rimane negativa lo vediamo appunto dagli elementi che ho detto prima media 200 volatilità stop line però proprio come movimento possibile di breve vediamo appunto la formazione di una figura di reversal ecco tutto questo verrebbe sicuramente negato alla rottura di questo minimo importante che adesso chiaramente ha preso una configurazione di minimo arrotondato tutto il movimento fatto sotto il rettangolo quindi la rottura di questo minimo di area 13 e 100 aprirebbe con molta probabilità la strada ai minimi in particolare questo il grande minimo di marzo che è stato poi rovesciato con questa mega candela gialla questa è molto importante questa figura di reversal quindi molta attenzione ecco questo lo togliamo andiamo un po indietro per far vedere ecco questo reversal questo minimo qui è molto importante quindi area 12 e 5 ecco quindi spero di aver risposto all'amico se ci fossero dei dubbi mi scriva in modo che poi li chiariamo va bene il tempo è quasi finito giusto per dirvi per augurarvi buona serata non perdetevi i prossimi video perché questa settimana avremo ancora da domani abbiamo le vendite al dettaglio in america quindi anche queste potrebbero portare qualche novità quindi non perdetevi i prossimi video intanto vi auguro buona serata grazie per l'attenzione grazie per i like per il sostegno che date ai canali i like sono molto graditi e anche i commenti grazie ancora appuntamento a domani